Per continuare le riprese di una serie tv per Rai 1 dal titolo Mina Settembre con Serena Rossi e Giuseppe Zeno. Dopodiché accompagnerò il mio secondo film da regista dal titolo Abbi Fede, uscito l'11 settembre su Rai Play, dove uscirò ad aprile nelle sale cinematografiche, ma evidentemente non siamo riusciti, per cui sto accompagnando di festival in festival, mi stanno chiamando in una marea di festival perché apprezzano il film e quindi mi tocca questa dura vita di andare in posti meravigliosi a ritirare dei premi. Però come si dice qualcuno lo deve fare, io sono il regista e quindi lo devo fare io. E poi spero in qualche giorno di, non dico di vacanza, ma di riposo. Riposo, relax, proprio bene. Magari qui, magari ritorno qui, che mi vengo sempre delle ore, poi mi tocca ripartire. Lei mi ha promesso che io posso venire insieme alla mia compagna a goderci un weekend, l'hai promesso adesso, io... L'ha detto anche in conferenza stampa, quindi... Sì, quando vuoi, ha detto. Intanto grazie Giorgio Lovainta.